La parabola che è nota come operai dell'ultima ora è importante per molte ragioni e molte legate proprio al lavoro, ai salari, all'economia. L'ambiente della parabola è appunto il lavoro e questo è già molto importante per noi, perché Gesù amava parlare con il linguaggio economico, amava le parole dell'economia. Se uno guarda con uno sguardo così come il mio di un economista, il Vangeli e la Bibbia trova tantissima economia, trova salari, talenti, amministratori onesti e disonesti, mercanti, denari e Gesù ha inserito addirittura la parola debito e debitori dentro il Padre Nostro, la preghiera più amata del cristianesimo. Gesù amava il linguaggio economico perché amava la vita e quindi sapeva che si vive e si muore anche per economia, si vive e si muore anche per salari giusti o ingiusti, si vive e si muore per il lavoro quando c'è e quando non c'è e quindi chi oggi a volte dice no non parliamo di economia quando si parla di fede perché è troppo bassa, è troppo terra a terra, non capisce il Vangelo ed è lontano dal pensiero di Gesù che amava talmente gli uomini e le donne che parlava tanto di economia e di lavoro. Avvenendo oggi al nostro contesto, in questa parabola possiamo trovare anche una grammatica dell'invidia sociale, come dice il testo, tu sei invidioso perché faccio delle cose che non dovrei fare, qualcosa di simile, perché oggi l'invidia sociale a volte è anche mascherata da una parola che va molto oggi, che è molto amata, molto usata, che è la meritocrazia. Questi ultimi non si meritano lo stesso salario dei primi e quindi non è giusto che siano pagati come i primi. E invece il Regno dei Cieli è il luogo dove tutti gli operai di ogni ora sono trattati in modo giusto e nel modo migliore. Ma possiamo anche osare aggiungere ancora un'altra interpretazione. Domandiamoci e se quel denaro che il padrone dà agli operai dell'ultima ora fosse una sorta di minimo vitale sotto il quale si nega la dignità del lavoro e una vita degna. Non dimentichiamo un dettaglio che nel racconto di Matteo quei lavoratori non arrivano all'ultima ora perché stavano a divertirsi o erano pigri, no perché nessuno li aveva chiamati a lavorare. Quindi non sono colpevoli, sono dei disoccupati involontari. E quindi domandiamoci, la domanda e l'offerta del mercato del lavoro è l'unico criterio per definire giusto un salario? Oppure quando si tratta di lavoro il mercato è troppo poco per assicurare la giustizia? E magari dobbiamo immaginare altre parole accanto al mercato, come dignità e rispetto.